Giovanni Boldini è stato un pittore italiano celebre per i suoi ritratti con cui ha reso immortali le donne più in voga nella Parigi di fine ottocento. Grazie al suo stile elegante e alle sue pennellate delicate Boldini è riuscito a cogliere nei suoi dipinti il fascino vaporoso, la vitalità e il romanticismo della belle époque. Giovanni Boldini riesce a mettersi in luce grazie al suo talento fin da ragazzino quando si specializza nel riprodurre alcuni dipinti di Raffaello. A 16 anni perfeziona il suo talento frequentando i corsi di pittura di Gironomo Domenichini a Ferrara. Il passaggio fondamentale per la sua carriera di artista lo compie nel 1862 quando si iscrive all'Accademia di Belle Arti di Firenze. Nella città toscana frequenta il celebre Caffè Michelangelo, meta degli artisti cittadini, e così entra in contatto con i Macchiaioli, il gruppo di artisti che nell'Ottocento rinnovò la pittura in Italia. Il 1867 è un anno fondamentale per Giovanni Boldini. Il pittore si trasferisce a Parigi per ammirare l'esposizione universale e ha l'occasione di vedere dal vivo le opere di Courbet, rimanendo affascinato dalla capacità del pittore francese di riprodurre la realtà. Nel suo soggiorno in Francia conoscerà anche i pittori impressionisti Edouard Manet, Alfred Sisley ed Edgar Degas. A 28 anni si trasferisce a Londra grazie all'amico William Cornwell East West che gli mette a disposizione un attrezzatissimo studio al centro della città, in una zona ben frequentata dagli aristocratici londinesi. L'esperienza londinese aiuterà Boldini a entrare nei salotti buoni europei fino a diventare uno dei ritrattisti più richiesti. L'avventura inglese dura un solo anno. Già nel 1871 Boldini è a Firenze per poi trasferirsi definitivamente a Parigi dal 1872. Ormai è un artista affermato, conteso dagli aristocratici ma soprattutto dalle nobili donne dell'epoca. Una delle opere più interessanti di Giovanni Boldini è sicuramente il ritratto di Luisa Casati Stampa realizzato nel 1908. È uno dei dipinti più celebri della Divina Marchesa, interprete perfetta dell'eleganza e dell'eccentrica follia della Belle Epoque. Oltre che splendide donne, Giovanni Boldini ritrasse anche passanti in strada, avventori nei caffè e celebrità dell'epoca come il compositore italiano Giuseppe Verdi, immortalato in un dipinto del 1886. Con la fine della Belle Epoque e i mutamenti sociali che sfociarono nel primo conflitto mondiale, l'attività artistica di Boldini fu meno intensa, ma non mancarono i riconoscimenti. Nel 1919 l'artista venne infatti insegnato della legione d'onore e del titolo di grande ufficiale della corona d'Italia, nonostante si fosse ritirato dall'attività artistica a causa di un grave e improvviso abbassamento della vista. Dopo la morte, giunta quando l'artista aveva 89 anni, il nome di Boldini venne dimenticato, come se la sua arte fosse stata frutto di una moda passeggera. Verrà riscoperto all'inizio degli anni 60 e gli verrà riconosciuto il suo ruolo nella storia dell'arte italiana, grazie allo stile delle sue pennellate, che sarà fonte di ispirazione per gli artisti futuristi. Se il video ti è piaciuto o l'hai trovato utile, lascia un like qui sotto o un commento e condividilo con i tuoi amici.